Il desiderio di scrivere di Salerno, la città in cui ha vissuto, di raccontarne le sue vicende, le inchieste che l'hanno interessata e di cui si è occupato. In poche righe, non inquinate dal silenzio omertoso, si possono evidenziare tanti problemi insoluti, ha spiegato e scritto Enzo Todaro, giornalista con la G maiuscola, che si è sempre rivolto ai suoi interlocutori e dai suoi lettori in modo diretto, semplice e comprensibile, evitando quei paroloni che non gli sono mai piaciuti. Punture di spillo è una sorta di libro di storia in cui si racconta la Salerno degli ultimi decenni attraverso la scrittura di Enzo Todaro, che nel suo percorso professionale ha diretto, lavorato e collaborato con le più importanti testate giornalistiche nazionali e locali, ed ha scritto rimanendo sempre fedele alla sua vecchia e funzionante Olivetti, senza lasciarsi trascinare dalle fibrillazioni della tecnologia e dei social. Punture di spillo è stato presentato a El Cigno, Arte e Design, Fondazione Bartolomeo Gatto, con l'autore che ne ha discusso con i giornalisti Gabriele Boiano, Erminia Pellecchia e Paolo Romano. Con attenzione e curiosità i presenti hanno seguito la presentazione del volume che ha permesso ad Enzo Todaro di raccontare anche alcuni aneddoti legati alla sua attività da giornalista e dai 30 anni di inchieste nella sua città.